In Versilia, sempre più grande il sabato sera, il Genius segnala il Kama Kama, pubbliche relazioni animazione e doc, per un sabato sera rinsegnare il divertimento e della bella musica, pubbliche relazioni Stefano De Angelis, Luca Viani e Gianluca Ercoli, in console il conosciuto Stefano D'Andrea. Il Genius Discoteca La Cicala, senz'altro la discoteca più conosciuta e frequentata in Versilia, nuovo staff di pubbliche relazioni, tra cui la conosciuta Tania, ex Vittoria di Marina e di Pietrasanta. Il Genius Discoteca Duplese Ricciolo di Aulla, gran filone du feste curate da Regia Mania, in console Alessandro Tognetti, Gabri Fasano, Roby J e Giovanni Villi. Il Genius La domenica pomeriggio che merita la critica del Genius è quella della discoteca Alhambra, musiche del DJ Team di Radio Mani Imperiali News. Inaugurazione della discoteca Alhambra, Genesi, il primo sabato di ottobre, in console Adriano Lovici. Il Genius Discoteca Paradise, Marinella di Sarzana, a partire dal primo venerdì di ottobre, nuove iniziative, in console Mickey e a ruota il DJ Team di Radio Mani Imperiali News. Il Genius Discoteca Kinky, Bologna, importanti venerdì e il sabato. In console, il giovedì, Ralf e M, B, G, Londra. Il sabato, Luca Trevisi. Il Genius Sempre a Bologna, discoteca Miró, la serata più interessante il mercoledì, in console Master Friends. Il Genius Discoteca Yabiyama, Firenze, ricomincia la leggenda rasa per il martedì, pubbliche relazioni Glauco Marconi, Annedda e Angelini. In console, anche quest'anno, Ralf. Il Genius Discoteca Pizca Raldo, a Valdano, in provincia di Firenze. Direzione artistica Davide Nicolò, pubbliche relazioni per il venerdì, Glauco Marconi, Cindy, Maya e Gianluca. Le musiche sono state affidate a Stefano Noferini, Mauro Ferrucci e Chico Seggi. Il Genius È nato un nuovo fuori orario nella riviera adriatica. Discoteca 99, Gradara, Riccione. Fuori orario che richiamano tutti in ottamboli. Aperto solo la domenica mattina, collaborazione Giavillaggio con la discoteca Kinky, Bologna. Il Genius Discoteca Club Imperiale, vicinissima all'apertura. Per informazioni, ascolta il Genius. Il Genius, di informato. Cingus Dominus Meno due Cingus Dominus 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 Grazie a tutti. 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 Oh... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.